Ci sono loro dentro Servono sia per far fare loro un lavoro Per raggiungere il cibo lo devo faticare un po' Perché lavorare fa bene Fa bene soprattutto alla loro mente e al loro benessere E poi servono anche un po' per refrigerio In queste giornate affose Conviene più fare più piccoli per volta che uno solo Perché come sopravvivezza Nelle specie di primati in cui l'allevamento viene effettuato Nei primi mesi in maniera civile Mangiano quello che avanza da mamma Questo anche nei cimpazzetti In maniera civile da parte della madre E' una cosa fisicamente umana In generale gli arricchimenti ambientali Non bisogna farli in maniera sistematica sempre uguale Perché altrimenti poi diventano noiosi Perché se uno sa poi quello che si aspetta Non ti attira più e diventa noioso Non è therapy E' una cosa fisico Non ti attira più a battera E' una cosa fisicamente Dottor 一些